Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video tutorial, questo è il secondo del giorno e vi andrò a mostrare come scaricare Crafted the World ringrazio appunto l'utente che me l'ha consigliato e appunto oggi vi andrò a mostrare come scaricarlo e installarlo allora per scaricarlo e installarlo appunto vi possono andare nel link che trovate nella descrizione che vi porterò al solito sito dove scrollando la pagina possiamo trovare diversi screenshot del gioco, una descrizione del gioco e diversi download io come al solito vi consiglio di cliccare sul link di mega.co.nz dove appunto dovete cliccare su download here e vi aprirà una pagina di AdFly dove dovete attendere 5 secondi e poi cliccare su avanti qui in alto a destra e dopo di che vi porterà questa pagina appunto di mega.co.nz dove dovete cliccare download throughout your browser e appunto vi partirà il download una volta che sarà arrivato al 100% ovvero dopo aver scaricato 200.8mega che è il peso effettivo del gioco appunto vi scaricherà appunto il gioco molto molto velocemente e vi troverete l'archivio RAR come appunto potete vedere qui appunto poi dovete andare a destrarlo tramite 7zip o RAR di cui trovate il link del download nella descrizione quindi fare tasto destro 7zip estrai file e andare a fare ok vi estrarrà tutti i file mi raccomando per giocarlo dovete installare i file altrimenti vi darà degli errori quindi appunto andare ad installare la cartella, aprirci, cioè cliccare due volte, andare qua dove ci sono tutti i file di gioco e come vedete appunto non ci sarà nemmeno bisogno di installarlo dopo di che cosa fare? O fare semplicemente il doppio clic su craftworld.exe oppure tasto destro eseguito come amministratore fare questo passaggio ovvero eseguito come amministratore molte volte risolve molti problemi che appunto magari non fanno partire il gioco dando qualsiasi problema e quindi farlo sempre per sicurezza e come vedete il gioco è partito funziona correttamente, ho provato a fare una mini partitella e il gioco sembra non dare problemi, non lagga, non ha nessun problema di nessun tipo e come vedete sembrerebbe pure in italiano perché caricamento fino a prova contraria è in italiano e infatti come vedete il gioco è in italiano adesso abbassiamo il volume se no mi ammazzo le orecchie e ok ragazzi quindi appunto il tutorial è venuto qui, spero vi sia stato l'aiuto in caso fosse così appunto vi inviterò a lasciare un bel mi piace se avete un qualsiasi tutorial da appunto richiedermi vi consiglio di scrivermelo nei commenti e lo farò nel più breve tempo possibile come potete vedere questo gioco assomiglia moltissimo a Terraria quindi se siete appassionati di Terraria magari vi piacerà pure questo giochino molto molto semplice quindi allora noi niente, questo è il tutorial e noi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti